Si presenta la poesia Primo Novembre. La composizione Primo Novembre è uno studio psicologico del suo sentirsi in sintonia con la vita. Sulla spiaggia il sole riscaldano come in settembre. Cristina avverte la stranezza di questo sole caldo e forte, non conosco ma il mese di novembre. La poetessa, che osserva la regnina, inserde i suoi pensieri e riflette. Questa regnina, il sottomarina, il reparto seguito di novembre. Cristina avverte la stranezza di questo sole caldo. Primo Novembre. Un sole forte e caldo, il primo Novembre. Non è tempo, non si adatta oggi, ma come mi sento? Novembre, cupo, come la nebbia, densa, come la pioggia insistente sulla finestra. Sulla spiaggia, un piccolo cane bianco porta un lungo bastone in bocca e corre, accanto al suo padrone. Com'è strana la vita intorno. Mentre io cammino a Novembre, tutto sembra a Sottembre. Grazie. Applausi. Grazie. Grazie. Grazie.